Perché Tony F si chiama così? Tutti sti Tony mo... Tony è tipo Mohamed, è un nome tipo... Tony, frate, è tipo... Esatto, capito? C'è pure un pezzo di CNN che si chiama Tony, però è acronimo... Top of New York Top of New York Classico Perché hai scelto Tony come nome? Eh, te l'ho detto perché mi chiamavo così a... Su un film Ti chiamavi così? No, come? Mi chiamavo Tony Fornari su un film Ti ricordi su Facebook c'era tipo la moda che non te chiamavano? Dei nomi finti Mi chiamavo Tony Fornari su Facebook Ok Che poi diventava Tony F Con la moda era tutta comunque Tony Fornari Tony Fornari... Io sono sempre stato Enzino Ferrari Ecco tu però, regalo Mi ricordo Io mi chiamavo Albert Anastasia Bellissimo E sai da Poli Castellano, carico Albert Anastasia Poli Castellano Take away